musica bella a tutti folli e bentornati su darkflashhandle con un nuovo video su minecraft insieme a metano ciao a tutti e siamo qui sui glacia scrap per fare le skywars metano buttati 3,2,1 buttati deciso da 3,2,1 che schifo qui non ci sta benissimo lo shop dunque ragazzi prima che iniziamo la partita vi ricordo sempre di lasciare un likes e dobbiamo parlare anche della serie ci stiamo organizzando quindi è inutile che spammate non abbiamo idea su cosa farla prima o poi arriverà no perchè praticamente ci manca più o meno il pacchetto e le persone ovvero tutto però più o meno si sta guardando un po' di cose quindi qui stiamo organizzando un minimo ma un minimo proprio comunque oddio la prima cesta a me è andata bene a me è malissimo ho trovato nulla di che ma perché tu sei l'edzo ma c'è solo una cesta in questa cosa ma non la dico cosa vuol dire no ce ne sono due però tipo una non so dove sia cioè da me lo so dove anzi forse ce ne sono tre lo sai ma come? io ne ho una ne ho metano a me l'ho sempre detto che nella mia isola perlomeno c'era un'altra cesta nella lava però non l'ho mai trovata ma la cesta è bloccata dal blocco di sopra oh oddio ok su non c'entro eh beh ovviamente mi sono fatto oh spada di diamante spada di diamante non ti sei tipato con l'ender per vero no no figurati ok non sono lezzo fino a quei livelli lì allora 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 dimmi cosa si deve fare c'è uno qui c'è Wally c'è Wally non ci morirei mi ha ammazzato Wally ma quanto il primo a morirci si è tipato con l'ender per Wally e ovviamente era fan quindi mi ha cercato apposta e mi ha ammazzato allora ragazzi tralasciando quella prima partita perché siete sempre dei lezzi cioè fate le partite con noi solo per tiparvi all'inizio e killarci va bene metano esatto non ci sono altre parole metano è accanto a me quindi evita di ammazzarmi no vabbè tranquillo magari un po' inserendoci lo faccio però mi fermo a un cuore proprio ok ok posto poi ci vado piano allora ovviamente io trovo la merda te invece? spada di ferro e mele d'oro 8 mele d'oro ma la sei messo bene no ok sei messo a merda anche te allora almeno c'ho le mele d'oro stavolta ma spai tu non sei accanto a me ah si invece sono accanto a te ok quasi qua siamo in tipo da quello che mi sta accanto eh non so c'ho c'ho l'ispirazione proprio p dai manco con una palla l'ho presa quello oddio allora non so come buttarlo di sotto quello lì cioè potrei fare la tattica proprio lezza del tipo prima ti lancio le palle poi mi cedì tipo e poi ti tiro le spadate mi baggo in un blocco e attenzione cosa succederà cosa succederà no l'ho ucciso no perché tipo mi ero bagato in un blocco e quindi boh ma questo non mi ha visto manco una volta oddio che culo ma che termine attenzione non mi ha visto neanche una volta attenzione è morto è morto è morto come ah l'hai ucciso come è morto lei si è suicidato non l'ho buttato giù ma perché la gente no la gente sta morendo ma non appare da chi ma si è vero non appare comunque c'è un'isola ok no è morto post allora uno è nella campana di vetro quella che c'è all'inizio sta tipo forse andando al centro e uno sta andando al centro e forse sono al centro quindi si 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 e non so magari arriva anche io al centro ma si dai c'è qualcosa di buono non lo so ancora non ho controllato dunque ci sono due in team e sono su un'isola ah è attaccato tu era con l'enderpearl dai su via ah ok allora c'è una squadra di diamante se vuoi eh sì in effetti mi servirebbe ok dove cazzo è ecco ho trovato non c'è la prima di chi è qua io ancora non ho mai shoppato perché tu dovremmo salire su questo punticello qui e poi andare su un'isola perché qua è troppo esposto ok arrivo a sua parte no guarda veramente quello che si era messo nella campana di vetro sta andando nell'isola di quei tipi là quindi probabilmente anche lui ci aiuta cioè non fa team però intanto ci aiuta quindi facciamo una torre mega iper alta e poi andiamo da loro ahah no oddio così non ci possono beccare tanto perché? perché c'è la torre qua che ci para più o meno e ti dico se si girano tutta la cosa ci para ci para allora aspetta stanno facendo casa questi eh buono buono allora questa isola qui aspetta sono collegato o no queste qui dall'alto aspetta si si come incavato caso si quello là che era in questa isola si è tipato da loro con il ponte ah ok perfetto allora l'abbiamo quasi perculati forse si si c'è il ponte c'è il ponte aspettiamo che si butti quello là anzi lo butto io di sopra no poveretto forse si è salvato attenzione vabbè intanto non ci vediamo in un'altra sti cazzi pronto 3 2 1 ok via ok oh c'è la chi laura c'è la chi laura e anche la mamma troia oh no cavolo fidati ciò ho ammazzato fidati che ce l'aveva la chi laura ma ci credo madonna che schifo non mi potei avvicinare non mi potei avvicinare proprio ma che schifo è ma andrà a pezzi di merda con la chi laura e crepano pure vabbè aspetta siamo in uno contro uno è rimasto quello che vi buttato giù si è rimasto lui nell'isola accanto eh ma non c'è beh invece c'è per forza magari sopra guarda non mi sembra beh io salgo e vedo comunque è meglio il casco di ferro con protezione 1 o quello di diamante eh boh a me dicono che quelli con protezione 1 di ferro sono meglio però boh non saprei io in genere più sempre quello di diamante perché almeno so che è buono sicuro eh già brobo comunque riconosco così quindi non saprei che dir tipo eh allora io sono sulla sua isola sopra non c'è sicuro perché c'ero io ma magari hai shiftato o no aspetta è qua sotto è qua sotto lo stronzo si è fatto casa oh l'ho buttato giù non ci credo si era fatto casa no forse è salito nella torre d'acqua anzi no ho vinto ho vinto ok ragazzone eccoci qui in questa terza partitozza che non siamo nella solita però perché da che te lezzo metano oh no siamo nella solita già ti stavo picchiando no non lo fare perché sono sono delicato io via ok allora ci tippiamo al centro o no eh no scioppo metano ma hai scioppato ma dai dai non dire cazzate non scherzare col fuoco che poi ti brucio la mamma ok ah ah va bene schifoso no invece io mi tippo perché sono una brava persona alla fine allora vediamo si ovviamente io ho trovato una sola cesta nella mia isola no 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 c'era già uno cazzo me lo spaccavo ma dai è stato ucciso la prima volta leggo metano ah no hai vinto tuo ho mezzo cuore ah ok oh mio dio meglio così e vabbè no ma io non avevo armatura lui si dunque da me si è tippato camille stranamente non mi sta ammazzando no ma camillo è bravo cioè io li spacco al culo ogni volta però è bravo perché lui si tippa con buone intenzioni non fa il lezzo ah ok grazie camillo per l'enderpearl no però non lo ammazzare troppa sempre la roba però lo ammazzo io poveretto eh insomma sei tu al centro per caso si ok sono sopra però io se vedi qualcuno sotto ammazzalo di cattiveria ok ah ho l'arco comunque dunque possiamo fare un po' i culi ovviamente non l'ho scioppato l'ho craftato con si si il cristo vabbè io non ce la faccio a salire salgo da fuori e ci siamo a fare il parkour inutile oh che bello camillo ha ammazzato quindi per ora non lo voglio ammazzare è nella nostra isola però non lo ammazzare ci sta eliminando i nabbi che arrivano dai poveretto ma non lo so sono tentato ma è simpile guarda siccome mi ha visto ha preso la spagna in mano non mi ispira ha fatto team chissà che te cattive intenzioni metano no cattive cattive ok io forse questo qua lo ce l'ho anche a frecciate forse non è vero ma c'è il legio che mi ha ammazzato la prima volta eh te l'ho detto ma tu sei sorto però oh no 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 ciao camillo che coole si è salvato madonna madonna che la gente mi pucca io bestemmio non hai no poke lunga storia comunque aspetta che c'è walley che dici ci ti piamo da walley guarda io mi ti pare da bruno mars attento attento metano ah no a camillo metano ma cosa metano e ti confondo con camillo ma io non faccio il lezzo in questo modo a me non ho imposto ti prendi direttamente l'endelperl no 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 camillo attento camillo muorici io veramente sento il bisogno di shoppare quindi penso che lo farò eh si eh si ah ma io ho già un endelperl non so da dove l'ho preso forse da dove l'ho preso forse da dove l'ho preso ah no forse di quello che ho ucciso allora chiede di chi mi tipo tippa di da walley perché noi stiamo andando all'altro ok aspetta che questo qua sta facendo eh però l'altro mi sta tirando le peggio cose lo stiamo ammazzando ce lo sta ammazzando camillo oh oh via allora sua isola mirata perfetta è la missi vediamo tento walley ok l'ho già tirato no no l'endelperl attenti attenti se ti fa dal centro cazzo cazzo non c'ha vita non c'ha vita eh ho visto nel mezzo non l'ho lasciato teoria non l'avei non l'ho lasciato mele dorate eh quindi voi che avete subito il ponte fatto eh ci sto provando che cazzo fa camillo non lo so perché che cazzo fa mi ha tirato le palle mi ha fatto cadere non giù spero no nell'isola ma mi sta per far cadere nel vuoto ma io lo ammazzo di botte ma che cazzo fa vuole muori mi doveva vindicare per la prima partita dai dark non c'ha vita ma è morto lo so infatti sta scappando come un pazzo eh cazzo ma quanta vita ha oddio ok è morto oh senti veramente camillo mi voleva tradire camillo perché ti giuro camillo no 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 cosa fai dov'è se è andato nella mia missa l'ha disarmato ma che cazzo io non l'uccido io non l'uccido anzi gli do fuoco ah tanto siamo dobbiamo ammazzarlo comunque ma è stifoso si ma gli voglio dare fuoco ma no proprio camillo ma è simpile no non è simpile e no sto bruciando io come no sono finito nella lava no tu sei due nella lava non mi dire che vinco no metano ho vinto senza far nulla ho vinto un culo metano grazie ok ragazzoli il video finisce qui come vedete lì sotto ci sono tutti fan anche a metano è un mio fan vero sono un fan oddio va bene vi ricordo sempre di lasciare i like di commentare se ancora non avete fatto di iscrivervi di passare al canale di metano che è qui sotto in descrizione e ci vediamo domani con un nuovo video ciao 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 a tutti